tra le aree forti e le aree debita, le aree costiere e le aree interne e quindi assicurato che i paesi dell'interno abbiano più risorse per garantire più sviluppo, più occupazione e più lavoro. E con noi a Borro e oggi invece discutiamo, sostanzialmente continuiamo il discorso interrotto a Birri, perché sempre di zona interna le parliamo. Quindi è un tema apparentemente diverso ma è strettamente complementare con le aree. C'è spazio per l'industria nella Sardegna centrale ancora? Questa è la domanda che si vuole in convegno. E oggi la politica che rappresentata da Roberto, da Vincenzo Flores e da Paolo Manicheda deve dare una risposta. Una risposta della politica dei suoi rappresentanti. Una risposta deve essere adatta anche dalla politica regionale e dalla programmazione regionale. E qui autorevolmente rappresentata dall'assessore professor Pigliaro che salutiamo e ringraziamo. Qual è la risposta della politica a questo problema? Ci si limita ancora a dare risposte alle emergenze? Viviamo purtroppo in modo drammatico i problemi dell'allevole di Montefilibe? O intende questa politica attivare una nuova politica industriale per la Sardegna centrale, per la zona interna? Intende continuare a dare risposte alle emergenze? Certo è importante. O si vuole invece attivare un nuovo progetto di sviluppo industriale per la Sardegna centrale che risponda ai nuovi criteri. Innovazione, altre tecnologie, ricerca, formazione, qualità dei servizi. Ecco non è perciò un caso che abbiamo inserito tra i relatori, quindi nella politica, il direttore del Consorzio 21. Perché stiamo già dicendo che il futuro è rappresentato dalla ricerca e dall'innovazione. Quindi qualsiasi nuovo processo industriale per la Sardegna centrale non può prescindere da questa indicazione. Un dato comunque certo, che siamo di fronte ad una crisi profonda dell'industrializzazione della Sardegna centrale. Il disegno industriale negli anni 70 si è concluso. È finito. Con risultati positivi e negativi, credo che non sia questa la sede per approfondire la storia di questo disegno. Certamente la fuga di Enichel, la chiusura di Montefibre e la crisi del tessile sono le tappe finali di questo processo industriale. Sono le tappe finali. D'altro lato, gli interventi indicati in questi anni, contratto d'aria, l'accordo sulla chimica, si sono dimostrati inadeguati o insufficienti per bloccare questa crisi o per riprendere, iniziare un nuovo processo industriale. Allora, questa è la domanda e questo è il motivo del convegno. Cosa fare a questo punto? E ci poniamo una serie di domande. C'è ancora bisogno di industria? C'è un futuro per l'industrializzazione della sedia centrale? Quale industria? Quali servizi? Quali strumenti legislativi finanziari? Quali incentivi eventualmente? Quale modello di governance della politica industriale nel territorio? Quale ruolo dei soggetti locali, della provincia, delle amministrazioni comunali? Bene, credo che il convegno poteva dare almeno alcune risposte. Ecco, io finisco annunciando che a fine settembre o ottobre ci sarà un secondo convegno sullo stesso tema, sarà il sistema economico e sindacale a dare la risposta che oggi rispetta la politica. Devo comunicare che il segretario provinciale della CIS di Ignazio Ganga per impegno personale oggi non è qui presente, mi ha pregato di cambiare comunicazione dell'Assemblea. Ecco, io ho finito, vi ringrazio e buon lavoro.